Sono partiti oggi i lavori per il nuovo polo dell'infanzia di Villa Vomano. Dai fondi del PNRR circa 700 mila euro nascerà una struttura innovativa che andrà a completare il ciclo scolastico della frazione di Teramo. Un primo passo verso quello che è un progetto più ampio. Si punta infatti a completare anche la struttura ferma dal 2006. I tempi di fine lavori del polo dell'infanzia saranno brevissimi. In meno di un anno si mira alla realizzazione della struttura. Con il lavoro che abbiamo portato avanti nel corso del primo mandato ci hanno consentito di intercettare due finanziamenti PNRR. Uno è questo e abbiamo puntato proprio sulla valorizzazione del polo scolastico complessivo nell'ambito di un percorso che ci consentirà di avere il ciclo completo scolastico proprio qui nell'area di Villa Vomano. Un'area molto sensibile e soprattutto uno spazio importante di una zona in pieno sviluppo della nostra città. investimento PNRR che ci consentirà oggi di far partire appunto il cantiere del polo per l'infanzia che prevederà anche la sezione primavera. Quindi una fascia di nostri utenti, i nostri più piccoli, due, sei anni che andrà a completare un percorso e un ciclo qui presente. Andiamo avanti e andremo avanti in questa direzione nella valorizzazione del patrimonio scolastico che non è solo ovviamente legato alla ricostruzione ma anche agli investimenti sui fondi PNRR e questo è un punto molto importante che ci consentirà appunto di procedere nella direzione della valorizzazione anche degli spazi e delle istituzioni collocate negli spazi più frazionali, diciamo così, periferici della nostra città anche per superare il concetto stesso di periferia ma investire soprattutto sul nostro futuro e sui nostri bambini. Grazie a tutti.